Vedo tutti gli obiettivi. Tutti gli obiettivi sono nostri! Vediamo il nemico! E' mica specchino! Attenti, obiettivo Charlie perduto. Bene, ci siamo presi, l'obiettivo Eibon. Ecco, li abbiamo trovati. Sto ricaricando! Il nemico ha il controllo della battaglia. Strapate quegli obiettivi. Abbiamo ucciso il primo dei loro soldati. Bene, soggettivo Cesar, è nostro. Voi, vieni! Irgendwelche Befele, Feldwebel? Voi, vieni, Feldwebel? Che faccio? Avanti, asiamo! Ben fatto. Ben fatto. Ben fatto. Ben fatto. Ben fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo perso l'obiettivo, Anton, ormai. Grazie a tutti. 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 Dobbiamo prendere gli obiettivi nemici o la battaglia è persa.